Non ha vinto nemmeno la seconda volta le primarie Dem e la Casa Bianca per lui resta un miraggio, ma per molti Bernie Sanders resta sempre il numero uno, almeno per i social, dove il senatore del Vermont ha conquistato la gloria di numerosissimi meme dedicate a lui nel giorno del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Seduto in modo poco composto, infreddolito, Sanders si è presentato a Washington imbacuccato in una giacca a vento e con dei guanti, delle moffole a tema nordico che hanno subito attirato l'attenzione dei fotografi presenti alla cerimonia. Da qui è scattata l'ironia social attraverso dei meme affettuosi con il fotomontaggio di Sanders in posa ogni volta in una scena diversa. Sanders seduto sul trono di spade o sulla panchina di Forrest Gump, Sanders con Marina Abramovic o portato via con la sedia dai trampiani che hanno invaso Capitol Hill, o ancora un Sanders sempre coerente e imperturbabile con i suoi bei guanti colorati sulle montagne russe. Insomma, la Sanders mania continua e almeno attraverso i social quella poltrona alla Casa Bianca è diventata sua, almeno per il breve tempo di un meme.